Proprio negli sviluppi nostri ce ne sono stati pochi, perché voi per la difficoltà della prima parte del primo tempo, dove loro ci aspettavano molto bassi, ci lasciavano giocare fino a metà campo, ma ho detto anche ai ragazzi che loro affrontavano questo tipo di partita in questa maniera, quindi non c'era spazio per poter giocare. Poi la sostituzione di Petrilli dopo la botta che ha preso, dopo 5 minuti ha condizionato secondo me l'unico giocatore che nella fase offensiva, nell'uno contro uno, è più bravo di tutti e quindi non avevamo più lo sbocco. Ho dovuto adattare Busetto 96, un ragazzino che si è calato con la massima umiltà, ovviamente ha avuto delle difficoltà di campo, però si è ben comportato, poi dopo anzi alla fine ha avuto anche la palla a gol. Però direi che a livello di gioco, io credo che in questo momento qua, come ho detto ieri, c'è stata tanta esperienza da parte di miei ragazzi, questo senz'altro. È impensabile che un allenatore non possa contare sulla loro esperienza e sulla loro responsabilità in campo, perché oltre a fare le cose nell'organizzazione, nell'applicazione, devono metterci anche del loro. Manca a farla apposta, abbiamo fatto gol su due palle inattive, che è il 99,9% di questa categoria qua. Le proviamo, le ripetiamo, le correggiamo e continueremo a farle, perché è un aspetto di questo campionato che è determinante ai fini del risultato.